Io sono Alberto Bitonti, vengo da Roma e sono qui perché credo nelle pratiche e nella condivisione di buon governo, di confronto su iniziative di innovazione sociale, per conoscere persone interessanti e per anche visitare questa bellissima città di cui abbiamo preso un sacco in questi giorni. Quali sono le tue impressioni sui contenuti della Summer School e come pensi di riutilizzarli? Le impressioni sui contenuti sono di stimolo, diciamo che quando persone con varie esperienze, varie sensibilità si mettono insieme provocano sempre una qualche scintilla che si accende, nascono nuove idee e questo non può che fare bene anche a ognuno di noi nel momento in cui torneremo nei vari contesti, che sia la grande città o il piccolo centro, per creare iniziative di qualche tipo, per creare innovazione, per migliorare la vita o comunque i nostri contesti di riferimento. Qual è secondo te invece oggi il ruolo di un cittadino responsabile? Un cittadino responsabile è un cittadino che è consapevole di vivere all'interno di un contesto complesso in cui lui è parte di qualcosa di più grande, ogni cittadino è parte di qualcosa di più grande. Quindi un cittadino responsabile si rende conto che le sue azioni e i suoi comportamenti hanno un effetto diretto anche su tutti gli altri. Questa è una cosa di cui dovremmo sempre ricordarci nel momento in cui anche i più piccoli gesti prendono una direzione o un'altra. Questa è una cosa di cui dovremmo sempre ricordare.